Lascia fallire la Grecia. Innanzitutto non è l'Europa che sta facendo fallire la Grecia, ma casomai sono le scelte del governo greco che non sono, a mio avviso, adeguate alle necessità della Grecia. L'Europa, al contrario, sta dimostrando una grande coesione e sta facendo di tutto per non solo mantenere l'integrità della zona euro, ma per rafforzarla. Infatti, uno degli argomenti di cui si è brevemente parlato in questa seconda riunione è la necessità di accelerare il processo di integrazione della zona euro lungo tutti gli strumenti, per esempio alcuni di quelli discussi nel rapporto dei quattro presidenti. Buona serata.